Se penso a confabulare non riesco a essere sintetico, perché è una cosa talmente piena di cose belle che non riesco a capire né da dove partire né da dove finire. Uno, secondo me la cosa più importante adesso, oggi nel 2018, è leggere questo, leggere la carta, sentire, respirare, sentirne l'odore, il profumo, la bellezza e confabulare ti porta ad avvicinarti a quella che è non solo lo spirito pragmatico delle cose, ma lo spirito dell'anima, il profumo, la bellezza. Oggi la lettura è la cosa migliore per pensare a domani, perché pensare a confabulare adesso mi mette in condizione di pensare a chi si mette in gioco, a un'età che quando ci avevo quell'età qualcuno che mi aiutasse ad innamorarmi della lettura ce l'avevo e sono quelli che oggi fanno confabulare, quindi se io oggi sono quello che sono è grazie a determinate persone, che oggi sono spese per fare in modo che il confabulare esista. Quindi per me l'importanza di questo progetto è enorme, non per l'oggi ma per il futuro. Voglio sostenere questo progetto, continuerò a sostenerlo sempre e dovreste sostenerlo anche tutti voi. Ciao e ci vediamo a confabulare.